Non ci siamo dimenticati del Levante. Da Sturla IV il mio operato da assessore insieme al municipio è stato finalizzato a dar voce alla cittadinanza attiva e alla riqualificazione ambientale. Realizzeremo lo scolmatore del rio Vernazza per mettere in sicurezza il territorio. È ora possibile avere nuovi servizi per il quartiere presso la casa del soldato di Sturla, divenuta comunale. A quarto, con coraggio e dedizione, i cittadini riuniti nella rete di associazione Quarto Pianeta hanno trasformato l'ex manicomio in uno spazio ricco di eventi per il quartiere. A NERDI mi impegno a riaprire la piscina grazie a una nuova gestione e manterrò la parola, come ha già fatto questa amministrazione, con la prossima apertura della struttura barivella. Il cuore di Genova per noi in ogni quartiere. Sono il candidato a sindaco per Genova per il centro-sinistra. Se anche tu ami la nostra città, il 25 giugno vota Gianni Crivelli.